ben trovati ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali resto il carlino corriere adriatico sulle pagine locali oggi è venerdì 3 novembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanacco del giorno eccola e santa silvia santa silvia nacque nel sesto secolo a roma madre di papa gregorio magno rimasta vedova si ritirò sull'avventino dedicando la sua vita all'aiuto e ai bisognosi e era ritirata insomma dedicata alla preghiera e all'aiuto degli altri fu sepolta alla sua morte nel monastero di santa andrea dove già si trovavano le sorelle tarsilla ed emiliana anch'esse sante quindi tutta una famiglia san gregorio magno il figlio santa silvia la mamma e poi le sorelle tarsilla ed emiliana queste per quanto riguarda le sante di oggi ora diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo ebbene il tempo è perturbato questa mattina pioveva a sufano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge rasserenamenti nel pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi i venti comunque saranno al mattino tesi forti al pomeriggio ancora più forti quindi attenzione le temperature 13 gradi la minima 20 la massima il sole è sorto da poco da pochissimo alle 6 51 e tramonterà alle 16 e 57 apriamo oggi il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo una vecchia conoscenza una vecchia conoscenza che ha caratterizzato facendo parlare di sé tutta la tornata amministrativa presieduta dal sindaco seri biodigestore ecco questo impianto che viene dibattuto a lungo che viene ancora procrastinato per quando riguarda la sua realizzazione in quanto non si è trovato l'accordo né tra maggioranza e minoranza né all'interno della maggioranza biodigestore intitola il resto del carlino resta il rebus sul partner di aset e chi sarà il partner di aset per realizzare questo impianto considerato molto molto importante per il territorio sarà aurora o feronia diciamo meglio ebbene il problema è stato riportato alla ribalta da edoardo carboni della lista civica ebbene biodigestore anaerobico dopo due anni dalla manifestazione di interesse indetta dal comune non c'è ancora il partner di aset a dir la verità ci sono delle proposte che sono state avanzate all'amministrazione comunale proposte che erano state messe al vaglio di una speciale commissione che è stata incaricata di redigere un giudizio qual è la migliore delle proposte ma ancora il risultato non viene presentato al consiglio comunale a esprimere alcuni dubbi per quanto si sta verificando è appunto il consigliere comunale di noi giovani edoardo carboni che mette a confronto gli investimenti di feronia con quelli effettuati da green factory partecipata al 100% da marche multiservizi quali sono le motivazioni economiche per cui green factory chiede carboni giunta anch'essa alla conclusione dell'iter autorizzativo per un impianto analogo nel comune di valle foglia ha realizzato investimenti per 4 milioni e 100 mila euro mentre gli investimenti di feronia sono solo di 10 mila euro c'è una grossa differenza tra le due dite e poi carboni in una sua interrogazione avanza molte domande fino a fomentare un dibattito quello sul biodigestore che sta caratterizzando le legislature con divisioni profonde come ho detto all'interno appunto dei consiglieri che cosa accadrà? Ancora dobbiamo tenere un punto interrogativo fin quando la giunta non si convince a presentare le proposte all'esame del consiglio comunale e poi dare il via se questo avverrà all'interno di questa tornata amministrativa perché poi se andrà alla prossima allora i punti interrogativi diventano più di uno questo per quanto riguarda questa nostra vecchia conoscenza del biodigestore ed ora parliamo invece di aspetti più concreti più pragmatici palestra scuola e casa artilei completata la riqualificazione ebbene l'amministrazione comunale ha completato la riqualificazione di 5 edifici pubblici la palestra Zattoni, la scuola media Gandiglio, la scuola media Nuti, la scuola materna Trottola e casa Archilei sono lavori per un importo di 800 mila euro che si sono potuti eseguire grazie ad un bando che è stato emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dunque un efficientamento energetico che ha caratterizzato 5 edifici che ora potranno così usufruire di una migliore condizione di carattere ambientale la cosa è stata annunciata dall'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori e quella della cultura Cora Fattori è anche assessore all'efficientamento energetico ed ora diamo voce ad un cittadino di Gimarra ad un cittadino di Gimarra che ha una voce fuori del coro ebbene si tratta di Gianfranco Tinti, 72 anni Gianfranco Tinti detto Bibi, imprenditore fanese cittadino doc di Gimarra ebbene la sua voce un po' si discosta da tutte quelle voci che abbiamo sentito fino ad oggi contro la variante di Gimarra, contro la variante del completamento degli interquartieri ebbene a Gimarra c'è un problema endemico un problema che si protrae da diversi anni quello della viabilità scendere da Gimarra per inserirsi poi nella statale adriatica è un problema in modo particolare nelle ore di punta ci sono poi ancora molti più appartamenti che si stanno costruendo a Gimarra quindi ci saranno ancora più abitanti ci sarà più gente e quindi sarà ancora più difficile poi far fluire il traffico verso il centro storico di Fano Gimarra ha bisogno di una nuova viabilità ha detto Tinti qui è già tutto pieno di macchine sebbene non ci sia ancora un appartamento finito dei circa 300 che stanno costruendo quindi le prospettive sono ancora peggiori già alle 7.30 del mattino è difficilissimo imboccare la statale ha dichiarato chi ha comprato qui gli appartamenti sapeva bene dell'esistenza del progetto Piccinato progetto che risale al 1967 una strada che risolverebbe il problema di fondo di cui nessuno parla mai l'accesso a Fano alta perché interessano le colline, la fauna persino i girasoli ma non il fatto che i cittadini si troveranno qui intrappolati da una viabilità insufficiente insomma ce l'ha contro gli ambientalisti che si occupano più della natura più che della vivibilità e più della socialità del quartiere e poi Tinti si leva anche un sassolino della scarpa per quanto riguarda i contrari alla variante di Gimarra a Tinti non piace neppure l'idea delle complanari nord e sud in alternativa alla variante di Gimarra la difesa del proprio articello dice da parte di proprietari di terreni importanti la capisco ma non si elimina il problema suggerendo passaggi a nord-ovest spostando il problema più in là magari a Fenile ebbene il problema esiste perché anche in quel quartiere ci sono persone con terreni di proprietà in ancora più belle colline sono forse anche loro residenti di serie B insomma dove la fai questa strada rovina il paesaggio e bisogna cercare dove si rovina di meno per quanto riguarda Gimarra Tinti dice che quello è il posto giusto e poi vediamo anche il trasloco di un celebre esercizio di un celebre laboratorio nel centro di Fano e la barbieria Zagaria che trasloca di qualche metro non va molto lontano rispetto all'attuale sede di via Giovanni da Serravalle giriamo la pagina e siamo a Mondolfo dove si parla di guardia medica questo importante servizio dei cittadini la guardia medica è importante per risolvere problemi d'urgenza anche quando non si trova il medico di base chi avrà bisogno la troverà soltanto nelle giornate di domenica 12, 19 e 26 novembre sempre nel turno diurno dalle 8 alle 20 ebbene dopo due mesi di servizio pressoché completo con la copertura al 100% di questo servizio torna a livello quasi zero la guardia medica di Mondolfo e quando si priva un servizio così importante certo la popolazione non è affatto contenta in tutto novembre rispetto ai 39 turni complessivi che ci sarebbero da garantire sarebbero 9 turni festivi e prefestivi compreso quello del giorno di ogni santi che è passato e 30 notturni vedrà la presenza di un dottore soltanto tre volte quindi veramente un servizio molto molto scarso ecco perché c'è questa protesta Halloween di notte festeggiano i ladri insomma questo Halloween ha creato un sacco di problemi non solo a Fano a Lucrezia ma anche nelle località dell'entroterra insomma ci sono stati veramente episodi dei qualificanti c'è stato un raid di ladri in azione a Castelvecchio e a Mondolfo ebbene la sera di martedì 31 ottobre a Castelvecchio una banda di ignoti è riuscita a penetrare nella casa di una signora di 82 anni in via Friuli vicino dove si trova l'isola ecologica e qui hanno forzato una finestra e sono andati hanno messo a suo quadro un po' tutte le stanze alla ricerca di denaro contante e gioielli che sono diventati poi gli unici obiettivi dei topi di appartamento non cercano altro non cercano oggetti cercano soltanto cose che possono trasformarsi in liquidità poi ci sono stati anche altri episodi per quanto riguarda i raid di questi ladri per cercare di ottrarre maggior bottino possibile dalle loro azioni per quanto riguarda Urbino si parla della ex fornace Volponi che è stata posta in vendita sul web da qualche giorno e su un popolare sito internet e l'offerta chiesti 2 milioni e 400 mila euro c'è sempre però il problema del comignolo che è un bene storico da tutolare perché fa parte è vincolato dalla sovrintendenza e fa parte ormai del paesaggio del territorio a Cagli si continua a protestare per quanto riguarda il piano dei parcheggi un piano considerato insufficiente troppo esoso dai cittadini e a questo proposito il partito democratico si schiera a favore dei cittadini a supporto del comitato per ottenere il cambiamento di questo piano e c'è stato un incontro per definire le linee delle richieste al comune tra i nodi anche quello dei minori introiti perché anche qui ci sono parcheggi a pagamento ad Apecchio lavori pubblici investimenti davvero importanti è il sindaco Nicolucci che fa il bilancio degli appalti messi in piedi negli ultimi tempi ebbene c'è un settore che va particolarmente valorizzato secondo il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci che è quello che è in rapporto con le aziende di piccole dimensioni che devono essere sostenute e poi diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro si parla della università il comune versa 160 mila euro e 13 ditte contribuiscono per sostenere l'università la sede decentrata della Politecnica delle Marche dove ci sono corsi adatti a sistemi industriali per quanto riguarda anche l'informazione ci sono corsi di ingegneria per la sostenibilità industriale corsi di laurea magistrale in Green Industrial Engineering e infermieristica per un totale di 300 iscritti quindi una istituzione molto importante da valorizzare e da preservare intanto la città si prepara al Natale si patinierà in piazza Matteotti dove accanto a Palazzo Baldassini sarà sistemata la pista di ghiaccio contenti anche i commercianti in questo caso ieri è stata ufficializzata dall'assessora Francesca Franquellucci questa decisione dopo un incontro con le associazioni di categoria idee anche eventi nei confronti dei centri commerciali naturali per valorizzare siamo già alla vigilia di Pesaro capitale nazionale della cultura e quindi già si assapora l'atmosfera di tanti tanti eventi che caratterizzeranno veramente questa manifestazione che dovrà poi dare benefici a un territorio allargato insomma a tutti i centri della provincia incluso Fano e allora si vendono anche le case cantoniere e finalmente queste case lasciate in degrado cadenti che costituiscono una bruttura nel paesaggio finalmente potranno essere valorizzate ebbene il demanio regionale finalmente ha deciso di mettere in vendita 30 edifici abbandonati in tutte le marche per offrirle poi ai richiedenti nella nostra provincia nella provincia di Pesaro Urbino ce ne sono almeno 10 in pessime condizioni ebbene sono case che si trovano a Torrette di Fano a Pesaro a Urbino a Borgo Pace Urbania e a Sant'Angelo in Bado ecco qua l'articolo che non ho inquadrato prima lo faccio adesso case cantoniere sul mercato pronte a darle in concessione alcune sono in buono stato vedete questa per esempio che è la casa cantoniera abbandonata nelle silicate ma altre hanno un aspetto veramente cadente che devono essere tutte insomma ristrutturate da cima a fondo giriamo la pagina e parliamo ancora della capitale della cultura perché l'attenzione di questo articolo si accentra su Rocca Costanza mistero Rocca Costanza ancora in programma lavori per 5 milioni ma il demanio dice sì faremo qualcosa in vista dell'anno dedicato alla capitale della cultura ma qualcosa ancora non è definito ancora non si sa ecco perché si preme perché questo grande monumento importante di Pesaro possa avere un rilievo centrale durante le manifestazioni dell'anno dedicato alla cultura giriamo ancora la pagina e vediamo quello che si profila nella fascia balneare pesarese ebbene il Maracanà ora appunto ha sul padel il Comune ha scelto il project sono alcune concessioni balneari che hanno degli impianti di beach volley che ora vengono trasformati in impianti di padel questo sport che sta froreggiando veramente sta andando alla grande in tutto il paese in tutta Italia anche a Pesaro ma anche io direi su tutta la fascia balneare marchigiana sta avendo veramente successo molti si dedicano al padel è uno sport che appassiona che avvince che dà la possibilità di fare esercizio fisico e quindi molte concessioni balneari si trasformano e poi si parla ancora dell'operazione pesarese Tombini Puliti che impongono alle auto di non parcheggiare sui al lato delle strade nei momenti in cui avviene la polizia molti lo fanno e molti vengono multati e infatti rimosse più di 50 auto operazioni Tombini Puliti Enzo Belloni l'assessore dice troppa gente non guarda i cartelli e si ritrova poi multata quindi attenzione a Pesaro ma adesso comunque c'è la protezione civile che infila un biglietto sotto il parabrezza e dite spostate qui lo vediamo un uomo della protezione civile che mette il biglietto sotto il tergicristale spostate l'auto perché qui passa il macchinario che deve pulire la strada le foglie insomma e tutto quanto il resto e quindi correte il rischio di pagare grosse multe perché poi l'auto viene prelevata dal carro attrezzi questo per quanto riguarda questa bella operazione che sta facendo il comune a Vallefoglia invece c'è una nuova segnalettica di zecca una nuova segnalettica di zecca nuova di zecca la segnalettica Vallefoglia investe risorse nella sicurezza stradale sono stati conclusi gli interventi delle arterie interessate negli ultimi lavori di asfaltatura ebbene lo segnala in questo caso il sindaco Palmiro Unchielli e l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Angelo Ghiselli e questo per quanto riguarda il la Vallefoglia ed ora passiamo al Corriere Adriatico ecco qua l'articolo di apertura ieri era il giorno della commemorazione dei difunti molti cittadini hanno visitato le tombe dei loro cari e purtroppo hanno visto anche alcuni segni di degrado che contrassegnano i cimiteri comunali in modo particolare il cimitero di Rosciano Bellocchi che da tanto tempo reclama interventi di cura e di manutenzione qui ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua di umidità di inagibilità per quanto riguarda eventi importanti di tipo temporalesco che impediscono poi ai cittadini di andare nei reparti sottoterra insomma ci sono grossi grossi problemi e poi anche nel cimitero centrale il cimitero storio che risale al 1800 ci sono problemi di cura e di manutenzione vediamo qui gli intonaci per esempio che vengono scrostati ci sono anche problemi di stabilità e quindi l'amministrazione comunale corre ai ripari e infatti lo evidenzia l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori che dice che sono già stati preventivati interventi per le cinque strutture rurali quella urbana e per l'olivo e soprattutto per il cimitero di Rosciano ci sono già 200 mila euro a disposizione per intervenire sul decoro di tutte le strutture esistenti e poi ci sono altri soldi circa un milione poco meno di un milione di euro per realizzare un nuovo padiglione per permettere appunto coloro che vivono in campagna in questo territorio poi di riposare nello stesso territorio e di non essere magari trasferiti dal cimitero dell'olivo o in altre parti e vediamo anche un sequel per quanto riguarda le imprese dei ragazzi di Alouven a Fano vandali di Alouven denunciati i quattro minori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria dei minori di Ancona i quattro ragazzi l'età va da 14 a 16 anni e si sono resi protagonisti di un ride nel quartiere dove hanno messo a fuoco tre cassonetti per la raccolta della carta poi scoppio di botti e via dicendo insomma una notte brava c'è anche il presidente di Aset Paolo Reginelli che dice che anche noi faremo ricorso per avere il rimborso dei danni che sono stati provocati e c'è anche un utile suggerimento sarebbe salutare ha dichiarato Reginelli se questi ragazzi partecipassero quest'estate ad uno stage per la cura e la manutenzione delle isole ecologiche sarebbe veramente un provvedimento educativo ma al problema del ride di Halloween si associa anche l'episodio di vandalismo che ancora una volta ha coinvolto i pannelli decorativi del sottopasso di Viale Cairoli dove sono stati infranti altri due pannelli e qui veramente siamo all'estremo di quanto la mancanza del senso civico può caratterizzare gruppi di ragazzi questi pannelli erano stati realizzati da altrettanti ragazzi gli studenti del liceo artistico a Polloni di Fano e altri ragazzi si sono divertiti a distruggerlo e questo ha sollevato la riprovazione del preside del liceo artistico del liceo artistico liceo Nolfi a Polloni Samuele Giombi il quale chiede provvedimenti piuttosto duri nei confronti di questi ragazzi e soprattutto dichiara che non verranno più realizzate opere dai suoi studenti se queste poi non verranno così controllate non verranno sorrette da impianti di videocamere di telecamere per eventualmente reprimere episodi di vandalismo giriamo la pagina e troviamo un altro articolo che riguarda Fano e riguarda soprattutto l'inquinamento acustico l'inquinamento sonoro decibel nuove regole in centro correttivi ma niente censura Fanesi dopo l'incontro in commissione l'assessore Fanesi ARPAM in difficoltà per i controlli è difficile veramente per i tecnici di ARPAM data la carenza di organico di andare a controllare tutti gli esercizi pubblici se questi durante le ore notturne superano i decibel concessi per fare musica e occorre quindi reprimere certi eccessi ma consentire a coloro che vogliono divertirsi di farlo con equilibrio siamo in conclusione vediamo rapidamente le altre notizie a Qualagna Tartufo Howard c'è la sfida tra le città del tubero d'oro si sfideranno a Qualagna Alba Mandola Gubbio Isernia e San Miniato e poi vediamo un articolo giudiziario minacce e maltrattamenti ma lui nega tutto è una coppia lei accuse il marito di maltrattamenti lui invece nega la sentenza deve ancora essere pronunciata e poi per quanto riguarda Mondolfo ma ne abbiamo già parlato sopra il luogo dell'asta alla Bartolini la guardia medica è indispensabile e questo è tutto per il momento vi do appuntamento domani come sempre intanto vi auguro una buona giornata grazie a tutti